Sai che per qualsiasi edificio o abitazione la supervisione e la gestione degli impianti di antincendio, antintrusione, videosorveglianza e domotica possono essere integrati in un'unica soluzione? Dell'impianti è in grado di fornirti un unico sistema centralizzato, accessibile via web e via app. Una volta autenticati, la prima schermata permette di vedere le informazioni più importanti, ovvero gli eventi recenti, i sistemi attivati, lo stato della batteria, lo stato di connessione della centrale, ovvero se è visibile dal portale o meno e la situazione allarmi. È possibile gestire ogni area separatamente, attivare o disattivare singole zone. Il menu storico permette di visualizzare il logo di sistema, quindi data e ora delle operazioni, esclusioni, attivazioni o situazioni di allarme. Si possono visualizzare le aree all'interno dell'edificio. Con un semplice click si possono gestire in modo molto intuitivo i sistemi installati nelle singole zone. La piattaforma è studiata per soddisfare ogni tipo di esigenza. Contattaci per informazioni e consulenze.